Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Nella puntata precedente abbiamo parlato di algoritmi quantistici, in particolare abbiamo visto il gate di Toffoli e abbiamo notato che è possibile simulare un computer classico non deterministico tramite un calcolatore quantistico. Come ho annunciato nella puntata precedente, quest'oggi avremmo parlato di parallelismo quantistico, ho deciso di dividere i due video così che venissero un po' più corti e che fossero meno stressanti. E dunque partiamo dalla definizione di parallelismo quantistico. Che cos'è? Il parallelismo quantistico è una caratteristica fondamentale di molti algoritmi quantistici. Come funziona? In sostanza consente di valutare una funzione f di x per molteplici valori di x. E dunque ipotizziamo di prendere appunto f di x ad esempio definita nel dominio 0 e 1 a valori in 0 e 1. Questa qui è una funzione con dominio e codominio contenuti nell'intervallo di valori di un solo bit. Un modo conveniente di calcolare questa funzione su un computer quantistico è di considerare un computer quantistico a 2 qubit. E quindi questo computer quantistico parte dallo stato x, y. Con una sequenza appropriata di gate logici è possibile trasformare questo stato in x, y, xor, f di x. Il primo registro lo chiamiamo registro dati e il secondo registro lo chiamiamo registro target. Chiamiamo con uf, quindi scriviamo uf, la trasformazione definita da x, y che va in x, y complemento a 2 con f di x, che anche essa è una matrice unitaria. Se y è uguale a 0, lo stato finale del secondo qubit sarà f di x. Quindi andiamo a disegnare questo gate, molto formalmente. Questa qui è uf, dunque qui abbiamo x in ingresso, y in ingresso. Questa uscita qui, come abbiamo detto prima, semplicemente y modulo a 2 con f di x. Qui abbiamo sempre x. Quindi qui ipotizziamo che x sia 0 più 1 su radice di 2, quindi superposizione, e y sia 0. Il risultato in uscita è v. Quindi tale circuito applica uf ad un input che non si trova in uno stato computazionale di base. Il registro dati viene preparato in superposizione, quindi x viene messo in superposizione, tramite un gate di adamard che segue uno 0. Quindi in sostanza imponiamo lo stato iniziale a 0 e poi applichiamo un gate di adamard. Successivamente, e ora dovrò scriverlo in questo spazietto, viene applicata uf allo stato risultante. Quindi si va ad ottenere 0,f di 0 più 1,f di 1. Questo qui si vedrà male, però è un 1, tutto fratto radice di 2. Beh, comunque sì, cioè, è molto semplice. Abbiamo preso lo stato di superposizione, qui abbiamo, al posto dello 0, abbiamo 0,f di 0, e al posto dell'1, 1,f di 1. Con la somma tutto fratto radice di 2. Questo qui è uno stato notevole. I termini differenti contengono informazioni su entrambi, f0 e f1. È come se avessimo valutato f di x per due valori di x contemporaneamente. Una caratteristica conosciuta come parallelismo quantistico. Questa procedura può essere generalizzata su qualsiasi funzione, ovviamente, con un numero arbitrario di bit, e questo sfruttando un'operazione che si chiama trasformata di Adamard oppure anche trasformata di Walsh Adamard. Ora vado a cancellarvi la lavagna perché andremo a vedere come è fatta questa trasformata. Dunque, questa operazione è semplicemente un n Adamard gate, quindi penso abbiate già capito se avete seguito tutto il corso che sto condividendo in questa playlist. E in sostanza questo calcola in parallelo n cubits applicando il gate di Adamard a ciascuno di essi. Nel caso di n uguale a 2, inizialmente preparati ovviamente a 0, abbiamo dunque 0 più 1 fratto radice di 2 e di nuovo 0 più 1 fratto radice di 2. Questa operazione, quindi questo prodotto, ci dà 0, 0 più 0, 1 più 1, 0 più 1, 1 tutto fratto naturalmente radice di 2. Probabilmente ho ricopiato male dal libro perché ovviamente c'è palese che radice di 2 per radice di 2 faccia 2 e non radice di 2. Dunque, come output scriveremo H, questo simbolo con un 2 per denotare l'azione parallela di 2 gate di Adamard leggendo questa, in sostanza è come l'ho fatto allo stesso modo dello XOR solo che invece di essere fatto a più, invece di essere fatto così, è fatto così a X, quindi a per. Questo qui, quello nuovo, lo chiameremo tensore, quindi questo è complemento 2 oppure XOR, questo qui lo chiamiamo tensore. Più generalmente questa operazione applicata a cubiz inizialmente a 0 è 1 fratto radice di 2 alla N sommatoria in X di X che è uguale ad H tensore di 2. E anche qui, palesemente dall'errore di prima, siccome abbiamo 2 qubit, 2 al quadrato radice di 2 è uguale a un mezzo. E sempre da qui notiamo l'errore di prima perché radice di 2, qui abbiamo 2 qubit, 2 alla 2 radice di 2 ovviamente fa 2. In ogni modo, riprendendo la formula, questa somma è svolta su tutti i possibili valori di X. La trasformata di Adamard produce una superposizione uguale su tutti gli stati computazionali di base. Inoltre, lo fa in modo estremamente efficiente, producendo una superposizione di 2 alla N stati usando N gates. Quindi, in sostanza, qui abbiamo 2 gate di Adamard. La valutazione parallela quantistica di una funzione con N bit, X input e un output, quindi F di X, in questo caso, intendo, può quindi essere svolta nel modo seguente. Si prepara N più 1 qubit allo stato 0. In realtà sarebbe, per dirgli tutti, 0 tensore. E poi si applica la trasformata di Adamard ai primi N qubits, seguita da un circuito quantistico che simula U di F. Questo produce lo stato che vi vado a scrivere qui perché non ho più spazio. In sostanza, lo stato prodotto è 1 su radice di 2 alla N, somme in X, simbolo di Dirac di X, e con simbolo di Dirac F di X. Dunque, in un certo senso, il parallelismo quantistico ci dà la possibilità di valutare contemporaneamente tutti i valori di F di X, anche se F di X l'abbiamo eseguita apparentemente una sola volta. Nonostante ciò, questo parallelismo non è proprio utile nell'immediato, perché nell'esempio con un singolo qubit la misurazione degli stati fornisce soltanto O0, F di 0, O1, F di 1. In modo simile accade per somme in X di X F di X, ovviamente. E ovviamente anche un computer classico riesce a fare la stessa operazione, e quindi a fare queste operazioni calcolare F di X per più valori di X contemporaneamente. In ogni modo, la computazione quantistica necessita più del solo parallelismo per dimostrarsi utile, nel senso che, va bene, io posso fare più calcoli contemporaneamente, ma questo diventa davvero utile se io posso estrapolare tutte le F di X calcolate contemporaneamente sempre nello stesso momento. Allora qui sì che questo parallelismo diventa nettamente dominante rispetto a quello dei calcolatori classici, ma questo sarà argomento delle lezioni successive. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciateci un like se vi è piaciuto, scriveteci qui sotto nei commenti se avete qualche domanda, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per venire notificati sui prossimi uploads, seguiteci sui nostri social e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!